E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo insieme a me Tannal Ciao a tutti E oggi dopo tanto tempo dalla loro mancanza sono tornato su Wakecraft Oggi siamo su iPixel e sono pronto a dimostrare la mia hyper skill Infatti cercherò di vincere almeno una partita in questa cosa A metà noi entriamo su Zero, questa qui, in basso a sinistra, a destra scusa E tipo ci vediamo quando si starta oppure soffrirete con noi e vedrete la partita che inizia Oh in effetti è bello farvi soffrire Devo ancora decidere, no però penso che ci vedrete direttamente in partita Ok ragazzi la partita starta tra 5, 4, 3, 2, 1 e cercherò il metano io e te facciamo team Ehm si si ma convinto eh mi raccomando Uh prima kill by metano, seconda kill by metano incredibile Oh oh ho fatto una kill incredibile Sì ma io ho fatto le prime due kill di tutta la partita per farti capire eh Cioè proprio le skill mi dicono Oddio c'è un frocio lo sto rincorrendo Nooo Ah metano c'è un tizio che si chiama Xander Però ha la skin di Master Madonna no che schifo Vanno lo cazzo È una cazzo di fusione Aspetta io vorrei trovarti Uh dondo cazzo è Ma no ci sono i camperini d'Ale Stai attento Ah si me ne sono reso conto L'ho trovato l'ho trovato l'ho anche ucciso Ah io no Sì io vorrei ucciso un camperino No ma questa partita è che non incontro nessuno io Cioè non trovo i nemici in questa partita Comunque ragazzi Girati Allora no 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 Uh me ne ho sapato Allora ragazzi perché non c'è Skywars oggi Perché come vi ho già detto in un paio di video fa di Skywars Ehm ogni tanto è giusto Mi si stava ricaricando avevo appena ucciso un team Sì sì Vabbè Ah uh Allora alle strade Praticamente ogni tanto mi piace è giusto variare Perché gli Skywars dopo un po' alla fine sono ripetitivi Cioè se stai sempre lì a chillare le persone Dopo un po' inizia a stancare E essendo che comunque voi mi avete detto Date porta anche altri minigiochi Io ho detto ma si facciamo quei craft che alla fine vi piacevano Quindi un ggwp Ehm questo video dovrebbe essere il primo dopo le vacanze Quindi bentornati a scuola Ehm Da noi come ci far pensare Ehm E tipo No Mi dispiace per voi ma anche per me perché comunque io sono sotto esame adesso Ehm Boh spero Porca puttana quando ti uccidono da dietro Metano comunque ho deciso che questo server ci devo scioppare la la nonna appena mi pare Ma io non so che vantaggi ti danno capisci C'hai le Praticamente La cosa in diamante che inizia a sparare a raffica Minchia addirittura Cioè ma a raffica nel senso che ha più colpio che lo può fare Tun 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 Belli camperini li prendi di spalle Oh mio dio no Non i camperini li sto arrando tutti in questa partita io eh Comunque No che pale Mi hanno levato il primo posto a me Ma non ma come l'ho sciottato da cedere quello la Comunque stavo dicendo io probabilmente raga A inizio mese di solito i vecchi prendono la pensione Io prenderò la pensione di mia nonna e sciopperò qui sopra Ma di che è triste No non è triste Io prendo la pensione di mia nonna e gliela rubo porca puttana Poi vado in posta E rubo la pensione a tutti i vecchiati che la vanno a ritirare E penso che Tutto a quelli che devono pagare dei tassi Alla brava gente Esatto Alla brava gente si ruba Non ai cattivi I cattivi sono bravi per essere cattivi Hanno bisogno di soldi per fare le cose cattive Esatto I bravi invece non hanno bisogno dei soldi per fare le cose cattive Giusto Ecco Tu si che hai capito tutto da dio eh Buo alla fine non sto giocando nemmeno male Sono a 12 kill Uh dio Sì sì Guarda come te lo spacco io Nonna Cazzo Uh spaccato No 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 Bello Medano Ti ho visto morire Mi ha acceso te No lo so Però non mi ha acceso Quello è l'importante Ti ho visto Oh Medano io sono quarto però Sono 15 No 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 Quinto mi ha appena superato te Ma perché io sono più forte ovviamente Boh vedi a me le partite di waycraft così mi piacciono perché durano di più Non quelle partite che durano 3 secondi che non ti fanno capire un cazzo Ma perché in quelle altre secondi c'è sempre lo scioppino del lezzino che non si capisce mai un cazzo cosa succede madonna Popo lezzi mi dicono Poi vengo sciottato Invece ora c'è metà nu che domina Vengo sciottato Vengo sciottato su di spawn Gotten Praticamente è dimenticato Penso che questa sia la mappa Mamma mia Medano Devi riguardarti il mio video E devi guardare la prima kill che faccio sulla seconda mappa Eh da dio No non lo farò mi dispiace I tuoi video mi danno l'epola Madonna Non riesco a fare un cazzo Mi arano Medano soprattutto quando vedi la pubblicità Togli adblock E No A me non ho di block Procio Cosa cosa C'è un procio No dai Brutto in culo Che palla Ero distratto Dai non puoi farmi Perché cosa Veni Veni da me Uh ma no C'è un lezzo C'è un lezzo Cazzo No 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 Uh l'ho orato Dove cazzo sei te Date Non lo so Sono in giro per la mappa Sono secondo Medano come fa ad avere 8 kill quello Eh mi sa che Tipo è lezzo Shopino a merda Io sono a 4 però Vero dello spirito santo Così tanto Ma guarda Io invece Oddio No 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 Va bene a madonna Però io sono a 3 kill Sono parecchio Parecchio lezzo In questa partita Che mi sa che Metano ma non mi hai visto Cioè mi sei passato a fianco No perché Si spavano dopo si vede No in realtà Ero già lì da 10 minuti Non penso Si poi ti rivedi il video Non lo so Metano mi sei passato dentro Ma che cazzo dici Te lo giuro Ma non me lo direi mai Ma cosa dici Metano sono a 6 kill Capisci che Il secondo è a 16 Oh come cazzo fa 10 a 7 Mi sa che campo vinto Cosa te lo fa pensare Vabbè almeno Boh così Giusto Non lo so Comunque sta lagando il PS Dopo lo cambiamo Perché mi sta venendo il cancro Dai dire Certe parole no Certe parole no No vabbè No dai Mi sei morto davanti Che palle Eh mi ha ucciso Lo sciopino a me Lina le sciopino a merda Comunque Non è che è tipo pro Lina gibbed Lina gibbed Ma magari gli gibbano la mamma Ma infatti Uh dai Ero dietro il muro Ero dietro il muro Che cazzo ridi Stronzo Io infatti pensavo di non averti Oh sono arrivato secondo Ti non mi hai colpito Fino Ma cosa perché Perché qui c'è scritto In alto a destra c'è scritto Io secondo In basso a sinistra c'è scritto Te il secondo Perché io ho vinto Cioè sono secondo Veramente io Ma tu mi devi succedere la fava Al massimo Niente di più Sì Che raga Terza partita Siamo su Cold War Incredibile Chissà perché si chiama Cold War Perché è calda Calda Ma mamma è calda Con le gambe aperte E tipo Uh Questa pesa Questa pesa Deve ammettere che pesa Quindi Dade non so se riuscirà a perdonarti Ma vabbè Che fai stanotte Non dormi Ma dai cazzo Dade c'è già lo shoppino Ne son sicuro Non può fare quelli killer lì Quel tipo là E quindi Il primo tipo Proprio Uddio De sac Cazzo E lui Mi serve un po' Shoppino a merda Uddio Ok No vabbè Cosa Eh shoppino si C'ha l'affare tra in oro Se c'ha l'affare in oro Non ho visto So che ho visto Che faceva delle kill disumane E quindi ho detto Boh shoppino a merda No dai Ma questo qui Ci ha fatto la vita qua Proprio Ci ha passato veramente la vita Non può fare certi kill E la madonna Però no Mi danno però sei secondo No che palle Quando mi scelgo da dietro Non è normale Ma anche roi Non è normale Ma cosa cazzo sei Sei un mostro Si vabbè Lui spara 30 volte Quello che sparo io Non ho parole Oh ci sono il lezzino Ci sono il lezzino shoppino Minchia buono Però Cosa qui non è vinta Ma Magni la vita proprio No Mi hanno ucciso dall'alto Stile Assassin's Creed Che cazzo era Uuuuh D'addio da dietro Attenzione Va bene Un tizio voleva sponchillare Oh Ho ucciso il cio Nello shoppino Su chiammelo No No Date No Quando ho ucciso lo shoppino Mi viene il cazzo duro No Ma che cazzo dici D'addio No Non va bene Via Comunque Io ti ho visto Ma poi ti ho perso Perché non volevo rischiarmi E poi E poi mi ha ucciso E poi mi ha ucciso il lezzino Madonna Madonna No Dai Lo sapevo che eri te Non avevo colpi Madonna Però non me la sto giocando male 14 kg Ma a me mi feccano sempre da dietro Due volte di fila ho ucciso il lezzino Poi si è vendicato però Ma ha fatto bene cazzo Ha fatto bene No Come l'ho missato No 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 Madonna Ma dove No Sono arrivato terzo Buono Vabbè Se lezzo lo stesso Te lo spavano Due volte di fila a podio Sono orgoglioso di me stesso Cazzo Con lì 262 vittorie Ma magari ti muore la mamma domani mattina Frocio Ok ragazzi Ultima partita di giornata Stiamo su Apex 2 Non ho capito perché si chiama 2 Perché ho notato che c'è una sistema Ma poi si chiama Apex Quindi questa Ma magari tipo è la versione dopo modificata Vado a sapere Tipo come Dust e Dust 2 su CS Più o meno Penso di sì Cioè oddio Non c'entrano molto Però ok Oddio Spuono odiare la gente Metano ne ho uccisi due Con un colpo all'Assassin Creed A culo però Ammettilo Sì di cazzo No 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 Uuuu Anch'io saltando minchia Cazzo dov'è Oh ma c'è Vabbè Vabbè Mi sto concentrando No Non ti concentrare Cazzo Sto facendo kill che non sono un cazzo legit Capisci No Madonna Ma ci metti troppo a caricare questa merda qui Ma cos'è Vabbè Ma vaffanculo Gioco del cazzo No Sono primo però dai Oh e tre volte che spawno da questo qua Madonna Posso per stimolare Ti prego dammi il permesso Ti prego Ne ho bisogno cazzo Minchia Tre volte sono spawnato Da lui cazzo Metano io me la sto camperando Capisci Non lo fare ti prego E invece si Sono a 10 kg No Che schifo Madonna non ci credo Dale non riesco a fare una kill Cioè non fate tre Quindi beh Però Non ci riesco Non funziona la mia cazzo Incontro sempre quel panda di merda Non ti funziona l'arma Ok No Da dietro Dale Dale ti prego dammi il permesso No Dale dai Mi spunchino Da dietro Da dietro No Mi hanno preso Cazzo Non posso più camperare No ma qui c'è la gente che lezza soda Cazzo quanto lezza certa gente Ti prego Sono a 15 Sono a 15 No veramente Io non la reggo questa petta qui È una sofferenza Ti prego Metti fine la mia vita in qualche modo Non ci credo Non può essere Mi hai ucciso Dai mi hai ucciso te Ma sei l'unica persona che ho ucciso Nell'arco di mezz'ora Ma che cazzo è Ma stiamo scherzando No Metano Però questa qui la potevo vincere Che palla Tua mamma puoi vincere Al parco giochi Dai guarda Perché la mettono come premio Va bene Madonna Sì è triste È triste ma è la verità Comunque non è ancora l'ultima parola Perché mancano ancora 5 kill Al tipo Quindi Uh no dai Ma perché lui spona Mi sciotta male E quando spono io invece no Ma che cazzo è Questo è il razzismo Cazzo Questo è il razzismo Eppure Ti ho visto morire Io sono spawnato E tu sei morto Mi credo No dai Questa qua è uno sclero Questa parte qui è uno sclero Ah ma c'è Tushius che è lo scioppino Però che palle Che palle Matteo non ti fa scherzare troppo Questa parte Ciao Metano Ti prego Non lo fare ancora Non lo fare di nuovo Sono secondo No Quante kill No non sei a secondo Sei terzo È finita No Sono arrivato terzo Vabbè almeno non è in podio Ho fatto una bella partita Ma la sono giocata bene Questa qui Buono Ok ragazzi Questo video finisce qui Mi raccomando Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Di Metano Che trovate in descrizione Insieme alla mia pagina Facebook Il profilo Ask Steam Se vuoi raggiungermi agli amici E il profilo pubblico di Facebook Dove potete seguirmi Quindi Spero che questo video vi sia piaciuto Datevi salute E bella Ciao a tutti